Buongiorno a tutti, sono Beatrice Carabelli, studentessa del corso di studi in scienze storiche e oggi sono qui con il professor Marco Natalizzi, docente del corso di studi in scienze storiche e la professoressa Fulvia Zega, docente del corso di studi in scienze storiche. Buongiorno professori, volevo porvi qualche domanda per offrire una panoramica del corso di studi e inizierai proprio da cosa si studia all'interno del corso di scienze storiche. Il corso di laurea in scienze storiche rappresenta il perfunzionamento del corso precedente triennale dove si erano appunto incontrate le materie di ampio raggio e ne rappresenta un coronamento in quanto fornisce un ulteriore approccio metodologico e perfeziona le capacità interdisciplinari. Vengono quindi affrontati temi specifici, particolari ambiti storici e vengono approfondite il contatto con le fonti, con la documentazione che sono la base dello storico. Molto importante in questo corso è la fase finale rappresentata dalla tesi a cui viene dedicato un ampio spazio e che dà occasione allo studente per misurarsi e mettere a frutto tutte le capacità, le conoscenze e le competenze acquisite fino a questo momento. Grazie mille. Le chiedo quali sono gli sbocchi lavorativi e professionali che si profilano alla fine del corso di studi in scienze storiche quindi? Bene, gli sbocchi professionali forniti dal nostro corso di laurea devo dire sono ad ampio raggio e vanno dal classico insegnamento nelle scuole medie superiori dove è possibile insegnare sia italiano che storia e filosofia e un'ampia gamma di interventi all'interno delle organizzazioni, delle strutture sia pubbliche che private, istituzioni pubbliche ovviamente e fondazioni culturali sia regionali che provinciali che nazionali e poi offre la possibilità di entrare nel mondo del giornalismo e non da ultimo molto importante per chi vuole che ne ha voglia ovviamente di continuare con un approccio accademico di ulteriore livello e quindi aprirsi a una carriera accademica futura. Grazie professore. Ora vorrei porre una domanda alla professoressa Fulvia Zega inerente a quali sono le possibilità di studio all'estero e se vi sono prospettive di doppi titoli con le università straniere. Il corso di laurea in scienze storiche promuove chiaramente esperienze di studio e di tirocinio all'estero per favorire lo sviluppo di scambi culturali e collaborazioni internazionali. In linea con gli interessi dell'Università di Genova offre ai suoi studenti l'opportunità di svolgere un periodo di studio all'estero scegliendo tra i diversi programmi internazionali a cui derisce, tra i quali possiamo ricordare l'Erasmus Plus, l'Erasmus Mundus, il programma Finta e il programma Fondo Giovani. Ovviamente a questo gruppo si aggiungono gli accordi internazionali che l'Università di Genova stipula con altre università europee ed extraeuropee al fine di permettere agli studenti di poter perfezionarsi e di poter trascorrere un periodo di studio sia in Europa che in extraeurope. Oltre a ciò il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia attiva a partire dall'anno accademico 2020 e 2021 un percorso formativo internazionale in collaborazione con la Facoltà di Arte, Lettere, Lingue e Scienze Umane dell'Università di Marsiglia ai fini del rilascio di un doppio diploma. Possono partecipare al percorso internazionale fino a dieci studenti per anno accademico, tra coloro che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in Scienze Storiche. Ovviamente la stessa cosa vale per il partner francese. Il primo anno il corso viene svolto nell'università di origine e il secondo in mobilità internazionale, ovvero gli italiani andranno a Marsiglia e i francesi verranno a Genova. Grazie professoressa, grazie a entrambi per aver risposto alle domande e arrivederci.